Ciao a tutti, sono Emanuele Manis e il mio personaggio è Xeno, un personaggio che fa parte della schiera dei Malvagi e che segue fedelmente gli ordini della Regina Meresh. È un personaggio che sicuramente è a capo di un esercito un po' particolare che potete già notare nella sigla della serie. Spero che questa serie piaccia a molti anche perché abbiamo creato tutto interamente da noi, quindi ci siamo anche autofinanziati per questo tipo di progetto e quindi spero che davvero esca fuori qualcosa che possa anche far divertire chi ci guarda. Quindi un saluto da Emanuele Manis, anzi da Xeno e buona visione.